Buongiorno a tutti, buongiorno, parliamo adesso della nuova tecnologia chiamata radiofrequenza ablativa superselettiva. La radiofrequenza ablativa è chiaramente una tecnologia nota, che però è stata impreziosita e raffinata da questo nuovo strumento che come vedete, non so se riuscite a inquadrarlo, eccolo qui, è costituito da un manipolo e da un bracciale. La novità di questo strumento è che è modulabile ed è possibile selezionare 5 livelli di potenza e di frequenza. È costituito da un manipolo sul quale montiamo degli aghi sterili e da un bracciale di riferimento che ci serve appunto per gestire e governare il manipolo stesso e la radiofrequenza. Ho trovato questo strumento molto utile nel trattamento delle lesioni cutanee benigne superficiali, chiaramente francamente benigne, e della lassità cutanea palpebrale di grado lieve o moderato come vedete in questa paziente. Chiaramente non trattiamo pazienti che hanno pseudoerniazioni adipose e in cui vi è quindi l'indicazione della blefaroplastica. Trattiamo invece pazienti che hanno una lassità cutanea, semplice diciamo. È uno strumento interessante perché consente, grazie appunto alla superselettività, di trattare solo le aree che andiamo a selezionare. Consente di concentrare grandi quantità di energia in spazi millimetrici, in aree di cute più piccole di un millimetro. La cosa interessante è che solo la parte che noi trattiamo viene coinvolta dall'effetto e la parte circostante invece rimane assolutamente non trattata. Il vantaggio è che quindi non si crea edema e non si crea eritema sulle parti che noi non vogliamo trattare. Come vedete ho regolato in questo caso per questo tipo di trattamento la potenza e la frequenza al massimo e vado a subito iniziare così eventualmente parliamo e spieghiamo. Potete fare domande chiaramente nel mentre che io opero così guadagniamo un po' di tempo. Allora normalmente questo strumento agisce sullo strato epidermico e derma superficiale con qualche leggerissima toccatura sul derma profondo. Questo è molto utile perché ci consente di lasciare intatti i bottoni germinativi del derma profondo e quindi di avere una sicurezza e una migliore guarigione in termini di cicatriziale e quindi di risultato estetico. L'altro vantaggio di questo strumento che è quindi una radiofrequenza ablativa superselettiva è che il riscaldamento dei vasi dermici che si produce durante l'effetto determina coagulazione. Quindi i trattamenti sia di ablazione superficiale delle lesioni sia in questo caso della coartazione dell'eccesso palpebrale cutaneo sono esangui, il campo è asciutto. Grazie al fatto di poter modulare possiamo ottenere da una semplice effetto di radiofrequenza con diciamo riorganizzazione delle fibre collagene a aumentando la potenza e la frequenza un effetto ad esempio di elettropil che può essere utilissimo per levigare ad esempio la regione periorbitaria anche in associazione ad altri trattamenti tipo ad esempio dopo la tossina butulinica se rimane qualche imperfezione questa può essere ulteriormente regolarizzata con questo effetto elettropilo oppure ad esempio il codice a barre. O aumentando ancora la potenza e la frequenza si arriva proprio all'effetto di ablazione superficiale che è quello che ci consente di rimuovere gli strati superficiali delle neoformazioni benigne fino a quando non raggiungiamo la completa, e ci sia una completa asportazione. Lo vediamo, magari poi riusciremo a fare anche qualche piccola piccola lesione perché appunto avendo la possibilità di lavorare in campo asciutto ci rendiamo esattamente conto di tutto quello che si fa e dove si arriva quindi possiamo governare sia la profondità e lo strato cutaneo in cui stiamo agendo e sia circoscrivere l'area esclusivamente alla lesione quindi senza creare eritemi, edemi o coinvolgimenti delle aree circostanti. In questo caso, che è molto interessante, tratteremo, come vedete, una lassità cutanea palpebrale di grado moderato della palpebra superiore. In questa paziente ho eseguito un'anestesia, come detto, ho fatto un goccino di anestesia locale per aumentare il comfort della paziente. È possibile anche, data la bassa stimolazione del dolore, operare dopo aver applicato una crema anestetica però per almeno un'oretta in modo che ci sia un effetto anestetico. Invece sulle lesioni superficiali si può, sempre con la crema anestetica o addirittura per i piccoli fibromipendi e le piccole cose, fare anche a meno. Iniziamo. La tecnica è molto semplice. Io vado semplicemente a definire l'eccesso cutaneo che nel mio caso corrisponde al confine tra porzione tarsale e porzione orbicolare della palpebra superiore. Quindi semplicemente si agisce lavorando su quella parte lì. Lo strumento non lavora per contatto ma lavora per sfioramento creando un arco voltaico, vi faccio vedere, tra il puntale e la cute. Quindi vedete, quando si crea la distanza giusta fra il puntale e la cute, si sviluppa il raggio, l'arco voltaico, l'onda elettromagnetica che agisce sulla cute stessa. Se io mi avvicino troppo e creo contatto fra il puntale e la cute, come vedete, non agisce, non funziona. Invece la distanza... o mi allontano uguale. Se invece determino la distanza giusta, allora funziona. Vi ho fatto vedere qualche prova. Ho anche la possibilità di avere diverse luci di diversi colori che mi servono, ad esempio, sulle lesioni piane per determinarne esattamente i bordi. Come vedete il trattamento è molto semplice e prevede semplicemente la rimozione dell'eccesso cutaneo. Io vado a identificare le aree di plus e poi con un movimento lineare, disegnando degli archi, vado a levigare. Dopo, al passaggio dello strumento, vedete che la cute si retrae, si coarta e già potete vedere quell'effetto di restringimento, cioè non c'è più il plus cutaneo, il plus cutaneo. Diciamo che dopo, come medicazione, è utile applicare un unguento antibiotico, o anche medicato, semplicemente, che mi consente di non far venire delle croste importanti, ma di avere solo semplicemente queste crosticine sieriche. Quindi poi la guarigione è più semplice, è più rapida anche. Come tecnica lascio degli spazi di cute sana fra le aree trattate. Vedete, quella è un'area non estetizzata. Di cute sana tra le aree trattate. La tecnica, chiaramente mutuata dal laser, frazionale, che mi consente una maggiore guarigione perché ho delle isole di cute sana in mezzo a isole di cute trattata. Come vedete, ho già fatto tre archi in corrispondenza degli eccessi cutani. Vado a rifinire con qualche piccola aggiunta, dove reputo che c'è qualche ulteriore lassità. Rano, scusami, hai soltanto cinque minuti. Sì. Potete volare qualche idea sulla sicurezza, sul margine di sicurezza di questo apparecchio e soprattutto su quali possono essere possibili complicanze e commentare? Quali possono essere gli errori più frequenti che ci portano verso una complicanza? Assolutamente sì, anzi grazie per la domanda che è il perfetto completamento. Allora, è importante rimanere nello strato epidermico o dermico superficiale. Lo strato dermico profondo va sfiorato perché se io agisco in maniera troppo decisa, troppo aggressiva sul derma profondo, chiaramente rischio di pregiudicare la guarigione perché andando a toccare le cellule germinative del derma che poi devono recuperare gli strati cutani, se le traumatizzo, le intacco, comunque le aggredisco, poi la guarigione può non essere così bella, così sicura e quindi il rischio appunto di creare delle cicatrici. Invece, se io rimango sullo strato cutaneo superficiale, diciamo quindi derma superficiale confine con derma profonda, allora ho la certezza che la guarigione sarà ottimale. L'altra unica attenzione a proposito di cose particolari è che chiaramente, in questo caso probabilmente non ci sarà, ma in alcuni pazienti con la pelle molto chiara è possibile che ci sia, come in tutti i trattamenti abrasivi, un eritema post trattamento. Basta ovviamente prescrivere alla paziente una protezione solare che deve usare fin quando non passa il rossore. Queste sono le due cose importanti a cui stare attenti per evitare possibili, insomma, piccoli effetti indesiderati o piccole complicanze. Mi sposto intanto dall'altra parte così facciamo l'altra. Il trattamento non è one shot, assolutamente, infatti è utile ed è più giusto forse agire fin quando io vedo la lassità e poi fermarmi. Invitare la paziente a tornare dopo 15 giorni o un mese e se ci sono delle ulteriori lassità o delle ulteriori aree da trattare posso ripetere il trattamento in quella stessa seduta. Assolutamente. Questo vale anche per le neoformazioni cutanee e sofitiche, ad esempio di grandi dimensioni, in cui non voglio rischiare appunto di intaccare il derma e allora questa può essere anche una strategia per evitare, come dicevi prima, tutte complicanze. Ma ha anche una possibilità di taglio di radiopiscoli questo o no? Sì, c'è già associato a questo strumento un ulteriore manipolo che aumenta la potenza e funziona da taglio. Se funziona da taglio è utile diciamo in manovre un po' più chirurgiche, però in questa versione diciamo, in questo caso sviluppa una potenza tale da produrre appunto al massimo un'abbersione superficiale, come vedete. Senti, e l'eritema per quanto permane dopo il trattamento? Io parlo di 15 o 30 giorni, che in me è proprio uguale, nel senso in quali casi si può anche ripetere dopo 15 giorni e quando dopo 30? Esatto, diciamo che l'eritema è la componente di rimente, nel senso che io ho visto che nelle pazienti di pelle chiara l'eritema dura un po' di più e l'eritema dura un po' di più tanto quanto io sono stato più deciso nell'azione e più aggressivo. Può durare 15, ad esempio in questo caso durerà 15-20 giorni. L'eritema si allunga se io sono più aggressivo verso gli strati profondi, allora in quel caso può durare anche qualche giorno in più, però al massimo nella mia esperienza, al massimo c'è con un trattamento anche abbastanza vivace, riesco a risolvere in 7, massimo 10 giorni. Di solito nel trattamento, chiamiamola blefaroplastica non chirurgica, in questo trattamento delle lassità cutanee palpebrali di grado lieve o moderato, l'80% dei pazienti, quindi diciamo la grande maggior parte, in 7-10 giorni ha completamente risolto l'eritema. E in quanti trattamenti si risolve in un caso come questo? Due, tre. Due, tre sedute sono il numero giusto per risolvere il trattamento. La terza appunto la tengo di, chiamiamola sicurezza. Poi è chiaro che aumentando l'esperienza, ad esempio ho già fatto un piccolo, un piccolo diciamo ulteriore archetto sopra, come vedete perché so già che probabilmente ci sarà l'astità e anche come vedete ho trattato in parte la porzione tarsale proprio perché appunto volevo già dare un risultato. Anche da questo lato ho prodotto tre archi, tre linee per avere anche già un risultato in una seconda seduta, completare e eventualmente definire tutta la rimozione eventuale che rimane e poi nel terzo, lo tengo diciamo di sicurezza, nel terzo appuntamento se è necessario. Abbiamo un minuto, se c'è qualche domanda Laura, se c'è qualche domanda, no, qualche concetto? No, volevo suggerire a Ivano di parlare un attimo della fotoprotezione dopo post trattamento perché hai parlato dell'eritema ma sapere qualcosa in più sulle cazze imperfecimentate. Dico questo, allora io consiglio la prima settimana di, vediamo quella verruchina sul braccio se si riesce, riusciamo a inquadrarla. Allora questo strumento, faccio solo questa parentesi per la parola della fotoprotezione, questo strumento è utilissimo anche per il trattamento delle lesioni cutanee benigne, quindi fibromi, xantelasmi, anche di natura virale sulle mucose come condilomi o anche verruche, molluschi contagiosi, insomma tutte le neoformazioni cutanee benigne esofitiche di franca natura benigna possono essere trattati in maniera rapida e semplice, keratosis e borroiche, lentigosimplex, insomma tutte queste cosette. Il trattamento come vedete è semplice e prevede la solita abrasione superficiale, i residui carboniosi, vedete, è molto rapido, vengono rimossi con una garza umida e questo è il risultato, vedete, non rimane poi nulla. Per quanto riguarda la fotoprotezione è imperativo che i pazienti dopo il trattamento utilizzino come per tutti i trattamenti abrasivi una protezione solare totale da utilizzare anche nei giorni in cui non c'è il sole, quindi anche nei giorni di nuve perché raggi ultravioletti lo sappiamo attraversano anche le nuvole. Io per la prima settimana consiglio l'unguento antibiotico, allo scadere della settimana, che di solito è già guarita la lesione abbondantemente, prescrivo in maniera imperativa l'utilizzo di una protezione solare totale nella zona trattata, fino a quando non passa l'eritema. Grazie a voi, grazie, grazie, grazie. Se non ci sono altre domande direi che possiamo concludere qui. Forse ne arriva una. Mi raccomando, Ivano ha insistito molto, però mi permetto anch'io di dirlo ancora una volta, la fotoprotezione, la fotoprotezione perché il paziente dice mi sono messo la crema, poi in realtà salta fuori che questa crema l'ha messa e poi se l'ha rimessa dopo 8 ore. Benissimo, infatti le linee guida addirittura suggeriscono di utilizzare la crema ogni 2 ore. Ogni 2 ore la crema va rinnovata. Questo è importantissimo. Qual è la domanda? Un po' di edema, questa è la natura. Sì, ma l'edema viene dall'anestesia. Una domanda dal pubblico, poi la lasciamo. Benissimo. Volevo chiedere se eventualmente è possibile stabilire in misura, in livelli, eventualmente di quanto può risalire o in quattra maniera, insomma, retrare la parte della superiore. Allora, nella mia esperienza. Esatto, nella mia esperienza io ho visto che fino a 2-3 mm di lassità si recuperano bene. Poi la possibilità di fare più sedute aumenta ulteriormente di 1-2 mm il vantaggio rispetto alla partenza. Il vantaggio di questa metodica, sai qual è? Anche quello di poterlo modulare nel tempo. Esattamente. Noi abbiamo la possibilità di vedere il paziente anche per un anno. Sì. Viene una volta, poi torna dopo tre mesi. Sì, assolutamente. E man mano lo valutiamo. Segnalo che l'edema è l'anestesia, perché io ho abbondato, sono stato generoso con l'anestesia perché non volevo che sentisse nulla, ma l'edema è dell'anestesia. Grazie. Sono posto allora, grazie. Chiudiamo il collegamento? Grazie a voi, grazie Ivano, grazie a tutti. Grazie. Grazie. E ringraziamo anche il professor Tomaselli e Bartoletti che rivediamo dopo per il collegamento.